Pose molto speciali di Jagmur Tarrizevsen, aise della serie tv, Kalpi Arasi, Jagmur Tarrizevsen, chiamato, Art Wund, che è stato trasmesso su ATV, interpreta il ruolo principale. La serie, che è stata venduta all'estero con il nome di, Art Wund, è stata una produzione drammatica e ha avuto molto successo. Gli ascolti della serie, le cui riprese continuano ad Antakia, stanno andando molto bene. La bellissima attrice, che ha dato vita al personaggio di, Aise, nella serie, era sulla copertina del numero di questa settimana della rivista Samdan Plus. La bellissima attrice ha posato magnificamente per la rivista e ha rilasciato dichiarazioni molto speciali. Jagmur Tarrizevsen ha dichiarato di aver agito con logica nella sua vita lavorativa e ha affermato di essere una persona che pianifica tutto e mira essere migliore nel suo lavoro. Dicendo che segue da vicino l'industria, Jagmur Tarrizevsen ha affermato che recitare è un lungo viaggio. L'attrice ha anche detto che è con te su questa strada e che non è preoccupata. Affermando che dovrebbe essere paziente, l'attrice ha anche detto che attualmente è innamorata del suo lavoro. Jagmur Tarrizevsen, che ha detto che il suo cuore era vuoto, era recentemente innamorato di Og Zankok. La coppia avrebbe dovuto sposarsi, ma la separazione è arrivata. Og Zankok è attualmente innamorato di Demetho Zdemir. Jagmur Tarrizevsen ha affermato che oltre a recitare, ha anche studiato design della ceramica e che potrebbe avere sorprese in futuro.